Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù, ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna e guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gesù, mio Dio, dal mondo intero il salvato. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. La volontà mi guiderà, forza e fiducia mi imponderà, non temerò, con te per mano camminerò. Dal libro di cielo, volume 34, 20 dicembre 1936. Figlia mia benedetta, i prodigi sono inauditi, le sorprese che ti narrerò faranno strabiliare tutti. Sento il bisogno d'amore di far conoscere che cosa abbiamo fatto con questa Madre Celeste e il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni. Onde tu devi sapere che nell'atto di concepire questa Vergine Santa, la nostra volontà divina, che possiede tutto, e con la sua immensità abbraccia tutto, che possiede l'onniveggenza di tutti gli esseri possibili e immaginabili, e con la sua virtù tutta propria, quando opera fa sempre opera universale, come la concepì, con la sua virtù creatrice, chiamò tutte le creature ad essere concepite nel cuore di questa Vergine. Ma non bastò al nostro amore. Dandone gli eccessi più incredibili, fece concepire questa Vergine in ciascuna creatura, affinché ciascuno avesse una madre per sé tutta sua, e tutte sentissero nel fondo del loro anima e la sua maternità e il suo amore, che mentre li tiene concepiti in sé come figli, bilocandosi si concepisce in ciascuna creatura, per mettersi a loro disposizione, per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli, e con la sua potenza materna e imboccarli con il latte del suo amore, col cibo con cui si nutrirà lei stessa, qual è il fiat divino. La nostra volontà, avendo vita libera in lei, il suo dominio totale, mentre con la sua potenza chiamava tutti in questa celeste creatura per avere la gioia di vedere tutti racchiusi in essa e sentirsi dire sono già in me tutti i miei e i tuoi figli, perciò ti amo per tutti, la bilocava poi in tutti e ciascuno, per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella e tutta amore. Possiamo dire che non vi è creatura per la quale essa non prese l'impegno di amarvi, di amarci. Il nostro fiat le elevò tanto, da darle tutto, e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo origina del suo amore, nel suo amore. Il nostro fiat le elevò tanto, da darle tutto, e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo regina del nostro fiat, regina del nostro amore. Quando ci amava, si sentiva nel suo amore la sua maternità e armonizzava l'amore di tutte le creature. E oh com'era bella, che di tutto formava un solo amore, come ci feriva, ci felicitava, fino a sentirci languire. Il suo amore ci disarmava, ci faceva vedere tutte le cose, cielo, terra, sole, mari e creature, coperti e nascosti nel suo amore. Oh com'era bello vederla, sentire che faceva da madre in ciascuna creatura e formando in esse il suo mare d'amore, mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dardi amorosi al suo creatore. E facendo la vera madre, ce le portava perfino innanzi al nostro trono, nel mare del suo amore, per farcele guardare, per renderci propizi. E con la forza del nostro volere divino si imponeva su di noi, ce le metteva in braccio, ce le faceva carezzare, baciare e ci faceva dare grazie sorprendenti. Quante santità furono formate ed impetrate da questa madre celeste. E per essere sicura lasciava a guardia il suo amore. Oltre a ciò, tu devi sapere che fin dal primo istante della vita di questa celeste creatura, fu tanto il nostro amore che la dotammo di tutte le nostre qualità divine. Sicché aveva per dote la nostra potenza, la nostra sapienza, l'amore, la bontà, luce, bellezza e tutto il resto delle nostre qualità divine. Già a tutte le creature nel metterle alla luce del giorno noi diamo la dote. Nessuno nasce se non è dotato dal suo creatore, ma siccome si scostano dalla nostra volontà, si può dire che neppure la conoscono. Invece questa Vergine Santa non si scostò mai, fece vita perenne nei mari interminabili del nostro Fiat. Quindi cresceva insieme con i nostri attributi. Come formava i suoi atti nelle nostre qualità divine, e così formava mari di potenza, di sapienza, di luce e di altro. Possiamo dire che, vivendo con la nostra scienza, le davamo continua lezione su chi era il suo creatore. Cresceva nelle nostre conoscenze e ne seppe tanto dell'Ente Supremo che nessun angelo né santo potette pareggiarla. Anzi, sono tutti ignoranti dinanzi a lei. Perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi. Essa entrò nei nostri segreti divini, nei più intimi nascondigli del nostro essere divino senza principio e fine. Delle nostre gioie e beatitudini imperiture. E con la nostra potenza che aveva il suo potere ci dominava e padroneggiava e noi la facevamo fare, anzi godevamo della sua padronanza. E per l'enderla più felice delle davamo i nostri casti e bracci, i nostri sorrisi d'amore dicendole fa ciò che vuoi tu. Il nostro volere è l'amore verso le creature ed il suo grande desiderio di farle vivere in esso è tanto che se ciò ottiene le gente non abisso di grazie ed amore fino ad affogarle, tanto che la piccolezza umana è costritta a dire basta, sono già affogata, mi sento divorare dal tuo stesso amore, non ne posso più. Ora tu devi sapere che il nostro amore non si contenta, non dice mai basta quanto più dà, più vuol dare e quando diamo la nostra festa imbandiamo la menza a chi ci ama e lo pressiamo a restare con noi per fare vita insieme. Ora figlia mia, ascolta un altro prodigio del nostro Fiat in questa santa creatura e come lei ci amava e resi estendibile la sua maternità a tutte le creature in ogni atto che faceva se amava, se pregava, se adorava, se soffriva tutto, anche il respiro, il palpito, il passo stando il nostro Fiat erano trionfi e vittorie che il nostro essere supremo faceva negli atti della Vergine la celeste signora trionfava e vinceva in Dio in ogni istante della sua vita ammirabile e prodigiosa erano trionfi e vittorie tra Dio e la Vergine ma questo è nulla facendo da vera madre chiamava tutti i suoi figli e copriva e nascondeva tutti i loro atti nei suoi li copriva con i suoi trionfi, con le sue vittorie dando loro come dote tutti gli atti suoi con tutte le sue vittorie e i suoi trionfi e poi con una tenerezza e un amore da spezzare i cuori sentirci vinti ci diceva ma è stata adorabile guarda sono tutti i figli miei le mie vittorie e i miei trionfi sono dei figli miei sono le mie conquiste che donano loro e se ha vinto e trionfato la mamma hanno vinto e trionfato i figli e tanti trionfi e vittorie pece in Dio per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature affinché tutti potessero dire sono dotato degli atti della mamma celeste e per suggello me li ha investiti con i suoi trionfi e con le vincite che fece col suo creatore sicché chi vuole farsi santo trova la dote della sua madre celeste i suoi trionfi e le sue vittorie per giungere alla santità più grande il debole trova la forza della santità della sua mamma i suoi trionfi per essere forti l'afflitto e il sofferente trova la dote delle pene della sua madre celeste per ottenere il trionfo e la vittoria della rassegnazione il peccatore trova la vittoria e il trionfo del perdono insomma tutti trovano in questa sovrana regina alla dote il sostegno e l'aiuto nello stato in cui si trova ed oh com'è bello è la scena più commovente rapitrice ed incantevole vedere in ciascuna creatura questa madre celeste che fa la mamma la sentiamo che ama e prega nei suoi figli questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra la bene più grande non potevamo dare alle creature ora figlia mia devo dirti un grande dolore della madre celeste a tanto suo amore corrisponde l'ingratitudine delle creature questa dote che dà con tanti sacrifici fino all'eroismo di sacrificare la vita del suo figlio Dio con tante pene atroci c'è chi non la conosce chi appena prende un teno interesse e fa vita povera di santità ed oh com'è soffre nel vedere i suoi figli poveri possedere immense ricchezze d'amore di grazia di santità perché non sono ricchezze materiali ma le ricchezze di questa madre celeste sono ricchezze che per acquistarle ha messo la sua vita e non vederle possedere dai suoi figli e tenerle senza lo scopo per cui le ha acquistate è un dolore continuo e perciò fa conoscere questo gran bene a tutti perché se non si conosce non si può possedere e siccome queste doti le acquistò in virtù del filato divino che regnava in lei che l'amava tanto che le faceva fare ciò che voleva e dovunque volesse arrivare a bene delle creature perciò sarà il mio volere divino regnante che ne metterà al giorno di queste doti celesti e farà loro prendere possesso perciò prega che sia conosciuto e voluto dalle creature un bene così grande bene per meditare adeguatamente questo testo occorrebbe fare una lunghissima meditazione ma certamente questo è un testo da riprendere veramente rigo per rigo interiorizzare perché somiglia a una valanga o a uno tsunami arrivano talmente tante informazioni di cose immense inaudite bellissime che quando si termina la lettura di questo brano questa è l'impressione che io percepisco si è come un'impressione di essere come dire come storditi appunto come sono andati a essere dato un sacco di di botte che è successo? ecco adesso cerchiamo un attimo di di raccapezzarsi un attimo perché è molto difficile anche ripercorrere e articolare un po' questa meditazione potremmo certamente cominciare col dire questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra bene più grande non potevamo dare alle creature tutto quello che abbiamo ascoltato si può sintetizzare in queste parole cioè il prodigio più grande tra il cielo e la terra e bene più grande di questo l'altissima alle creature non poteva darlo oggi stiamo facendo questa meditazione perché la chiesa celebra la memoria di Maria madre della chiesa ecco un dono che Papa Francesco ha fatto alla chiesa dall'anno scorso quindi nel giorno il giorno dopo in cui si fa memoria della manifestazione al mondo della chiesa nascente nella Pentecoste Pentecoste che avvenne con Maria e per mezzo di Maria perché fu lei a preparare gli apostoli a questo grande dono prendendosene cura personale appare come madre della chiesa cioè come sentiremo nella lettura nella messa di oggi nel bellissimo brano dell'ufficio delle letture di oggi dove si legge proprio l'allocuzione con cui Paolo VI nel 1964 al termine del Concilio Vaticano II inserì questo nuovo titolo non nuovo nella sostanza insomma nuovo diciamo nella forma nel senso che disse da oggi in poi desidero e ordino come Papa che la Madonna sia venerata a tutto questo titolo perché? per le motivazioni che sappiamo anche dagli scritti no? perché diventando madre del verbo incarnato è chiaro che la Madonna ipso facto diventa anche madre delle membra del suo corpo mistico ecco poi sappiamo che questo avvenne già all'istante dell'annunciazione ma qui oggi Gesù ci porta all'istante addirittura del concepimento ma attenzione è una maternità ancora più larga e si capisce anche perché no? perché con l'incarnazione questo ricordiamolo sempre quindi Gesù si legge nei documenti della Chiesa in certo modo si è unito ad ogni uomo perché si è fatto uomo cioè è chiaro che con i battezzati nostro Signore Gesù Cristo ha un'unione del tutto particolare perché i membri della Chiesa sono irradiati dalla grazia santificante e proprio operante che Lui ha acquistato no? però non possiamo pensare che il resto dell'umanità sia estranea al nostro Signore perché Gesù ama ogni anima presente passato e futura non solo quelle fortunatissime che hanno la grazia e il dono di stare nel suo mistico corpo la stessa cosa vale per la Madonna stessa identica cosa e quindi abbiamo una estensione della maternità di Maria assolutamente universale e poi del tutto peculiare perché ripercorrendo e sintetizzando un po' quello che Gesù spiega è avvenuto questo prodigi inauditi sorprese che ti narrerò e che faranno strabiliare tutti questo è il prologo e poi la conclusione prima della nota dolente della malaccoglienza di queste cose è questo è il prodigio più grande tra il cielo e la terra bene più grande non potevamo dare le creature in mezzo c'è la descrizione allora premesso nella divina volontà evidentemente c'è l'onniveggenza dice Gesù cioè Dio vede con chiarezza tutti gli esseri possibili ed immaginabili non solo quelli reali quindi quelli che saranno cioè noi quando proviamo a meditare queste cose ci perdiamo nella grandezza infinita dell'altissimo perché possiamo vagamente insomma provare a immaginarla no? e quindi cosa ha fatto? quando è stata concepita Maria Santissima la divina volontà ha chiamato con la sua virtù creatice tutte le creature possibili e immaginabili ad essere concepite nel cuore di questa Vergine attenzione loro in Maria e attenzione ha fatto anche un'operazione contraria cioè ha bilocato ma diciamo così che ha plurilocato Maria Santissima perché ella a sua volta fosse concepita in ciascuna creatura capito? affinché ciascuna dice Gesù avesse una madre per sé tutta sua e tutte sentissero nel fondo delle loro anime la sua maternità tutte ma anche i pigmei che non sanno neanche che cosa dove sta di casa la fede divina è cattolica a quello che c'è scritto qui dobbiamo pensare di sì perché lei è madre di tutti di tutti di tutti è chiaro che il pigmeo si sente nel fondo dell'anima la sua maternità l'avvertirà in una maniera molto molto misteriosa non sa neanche che esiste una creatura che si chiama la Madonna ma questo non significa che non ci sia e cosa ha fatto la Madonna? tutti gli atti di tutte quante le creature presenti passate e future le atti di tutti quanti già fatti lei ma ha rivestito tutte le creature degli atti propri cioè Dio è perfettamente amato e glorificato e servito e adorato e riparato in ciascuna creatura perché è stato rivestito di quello che la Madonna ha fatto per loro per volontà sua per l'amore di lei il suo amore le tiene concepiti in sé più che figli bilocando si concepisce in ciascuna creatura per mettersi a loro disposizione per crescerli guidarli liberarli dai pericoli con la sua potenza materna imboccarli con il latte del suo amore col cibo con cui di lei si nutri è incredibile sentire in ciascuna e perché ha fatto questo? perché Dio potesse sentire in ciascuna anima l'amore suo l'amore della tutta bella e della tutta amore perché? perché siccome non tutte le creature anzi quasi nessuno avrebbe amato il Signore né tanto meno amato come lo merita dice lo faccio io per tutti perché tu possa essere contento dell'amore di tutti anche quando non lo vedi e perché tutti possano avere anche quelli che non sanno amarti e che non sono buoni a farlo qualcuno che in loro ti abbia amato perfettamente questo è quello che ha fatto la Madonna cioè quando si vedono queste cose riferite a Maria è un po' come quando Gesù spiega la sua passione divina ininterrotta nella sua natura umana che abbiamo visto nelle meditazioni dei giorni scorsi cioè per esempio già contemplare la Madonna come ai piedi della croce che Gesù gli dice donna ecco tuo figlio figlio ecco tua madre come e questo lo sentiremo in tutte le pratiche di oggi voglio ben sperare che c'è questo Vangelo che dice guarda quanto sei costato alla Madonna dice la Madonna ha fatto nascere Gesù senza dolori senza le toglie del parto ma a te ti ha partorito sotto la croce partorito e non concepito quindi già questo pensiero se uno ci crede ci fa cadere i piedi della Madonna dirle grazie ma mi dispiace anche per fare tutte queste cose qui perché ti ho procurato tanto dolore ma pensiamo a questo a che cosa si è andata a inventare quindi Gesù può dire quante santità furono formate e impetrate da questa madre anche di chi non lo sa d'accordo perché questa creatura fa da madre in ciascun essere umano forma in ciascun essere umano un mare d'amore manda frecce dar di amorosi al suo creatore e questo nello stato di più totale incoscienza da parte di tutti io non lo sapevo prima da adesso che la Madonna facesse queste cose ecco perché Gesù dice bisogna conoscerle perché aumenti le nostre gratitudini e anche perché possiamo farne tesoro di queste cose adesso poi lo vedremo in conclusione bisogna conoscerle bisogna saperle io sta roba non ho mai sentito in vita mia quindi sicuramente sono questi a mio visi tratti proprio caratteristici di questi scritti cioè però se si comprende bene questi sono la naturale conseguenza se uno ci riflettesse bene del mistero dell'incarnazione e della relazione come dice il beato santo Paolo VI nella lettura della relazione del tutto particolare che lei ha con il Redentore a causa della maternità divina perché se Gesù è il Redentore di tutti gli uomini è evidente che la Madonna deve essere la madre di tutti gli uomini e quindi è chiaro che Gesù è riconosciuto come Salvatore e come Dio dai figli della Chiesa e la Madonna è benata da come tale ma questo non vuol dire che non lo sia per tutti anche per quelli che non lo riconoscono che poi purtroppo questa sua funzione possa essere frustrata dall'umana libertà lo sappiamo benissimo lo spiega anche qui ma questo non significa che non ci sia nella intenzione divina e quindi cosa è successo? La Madonna dotata di tutte le qualità divine e che cosa fa? Ininterrottamente forma tutti quanti gli altri nelle qualità divine mari di potenza di sapienza di luce e quindi è una produzione interrotta insomma inimmaginabile di divina santità inenarrabile e questo a beneficio non solo suo ma di tutti la grande conoscitrice di Dio possiamo dire che vivendo con la nostra scienza le davamo continua lezioni su chi era il suo creatore chi è che conosce Dio? Bene solo la Madonna io questo l'ho sempre pensato tra l'altro solo lei dice Gesù i più grandi nessun angelo non è santo i più grandi angeli i più grandi santi sono ignoranti dinanzi a lei non sanno manco chi è il Padre Eterno perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi solo lei conosce bene l'Altissima entrò nei nostri segreti divini nei più intimi nasconditi del nostro essere divino senza principio e senza fine nelle nostre gioie e beatitudini imperiture tutte cose che la Madonna sa per conoscenza diretta personale e le sapeva fin da quando era sul pianeta Terra non l'ha saputa quando andava in paradiso con la nostra potenza ci dominava e padroneggiava e noi la facevamo fare questo i grandi santi che chiamavano la Madonna questa c'ha potere anche su Dio i grandi santi mariani un San Bernardo un San Luigi Monforta è chiaro che è una cosa che Dio gli ha voluto donare perché essere e ne gode ne è contento d'accordo non è come dire sottomesso come se la Madonna fosse più grande di Dio perché dipende dal suo bene placido però è un fatto reale e per lei è la più felice i nostri casti abbracci i nostri baci e diciamo fa ciò che vuoi tu ecco perché la Madonna accana fa il primo miracolo e Gesù non era ancora tempo di farlo la Madonna parla e il miracolo è concesso c'è questa parola fa ciò che vuoi tu e se Dio la dice puoi federe e attenzione il nostro volere e l'amore verso le sue le sue creature e il suo grande desiderio di farle vivere in esso è tanto quanto la Madonna vuole che noi viviamo questa vita che se ciò tiene prova leggete non abisso di grazie e d'amore fino ad affogarli tanto che la piccolezza non è costata dire basta sono già affogato mi sento divorrare dal tuo stesso amore non ne posso più questo è quello che ha promesso questo è quello che la Madonna farà a chi comincia veramente a vivere nella divina volontà sta scritto qui e se non lo facesse noi ci vediamo veramente possiamo andare dal nostro Signore a portargli questo versetto e a dire senti un po' io tutti questi affogamenti nella vita terrena non l'ho percepiti con me nonostante che ho fatto di tutto per vivere in questo mondo forse ci sono riuscito ma io ho fatto di tutto però quindi tutte queste azioni fatte dalla Madonna tutti questi trionfi queste vittorie fatte dal minimo atto che faceva perché era un atto fuso con la divina volontà eccetera eccetera furono per sé e furono per le creature tanti trionfi e vittorie che c'è in Dio per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature affinché tutti potessero dire io sono già dotato degli atti della mia mamma me li ha investiti con i suoi trionfi e con le vincite che fece col suo creatore quindi vuoi farti santo trovi tutto in Maria sei un debole non trovi la forza la trovi già in Maria sei afflitto tribolato avrai dalla Madonna la grazia di essere conformato alla volontà di Dio sei un peccatore troverai dalla Madonna la forza di chiedere perdono purtroppo c'è sempre l'amara nota dolente è brutto chiudere così però purtroppo dobbiamo essere anche coscienti di questo ora devo dirti un dolore grande della madre celeste ha tanto suo amore guarda che sei inventato per tutti noi quindi facendo tutto quello che ha vissuto avendo sempre un occhio su di noi e su tutti noi questa dote che dà con tanti sacrifici fino all'eroismo perché lei gli è costata il sacrificio di un Dio con pene atroci perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'opera della redenzione perché l'opera della santificazione è conseguente all'opera della redenzione c'è chi non la conosce per niente c'è chi la misconosce c'è chi la combatte c'è chi la minimizza potrei aggiungere io chi appena prende un teno interesse fa una vita povera di santità che fa quasi pena una santità proprio molto molto piccina che non attrae affatto ma insomma a volte fa anche veramente un po' un po' pena perché è tanto piccola quando dovrebbe essere tanto bella e tanto grande la santità proviamo a immaginarci proviamo a immaginarci se noi avessimo un patrimonio a disposizione del prossimo perché quello che abbiamo noi quando noi pensiamo io quando penso ai più grandi ricchi del mondo dico ma questi che ci fanno con tutti questi sorti cioè seppure uno volesse cioè vuoi scialare tutti gli sfizi possibili e magibili non ce la fanno a finisserli capito gente come il padrone di Amazon non lo so Bill Gates sta gente qui quando era vivo Steve Jobs cosa rimettono tutti questi soldi che ci fanno immaginiamo questo era un pallidissimo cioè il patrimonio personale della donna era qualcosa di ma lei ha un patrimonio immensissimo a disposizione per milioni di miliardi di creature cioè che non sa che faccia perché cioè lei non c'è più posto per lei d'accordo la disposizione è tutta tutta grazia sprecata quindi immaginiamo il dolore che possa vivere cioè immaginiamo anche noi chi è padre chi è madre ma anche chi è cioè avendo a disposizione di poter fare tanto del bene non lo puoi fare perché non lo vogliono è pazzesco e questa meditazione si può raccordare insomma anche con col mese di giugno che stiamo vivendo quindi con Gesù il cuore che ha tanto amato il mondo e in cambio riceve che molto delle cose che ho fatto per loro ma le dute ne per me perché nessuno le vuole anzi ingratitudine indifferenze disprezzi freddezze sacrilegge e calci in faccia ecco speriamo che Dio ci scampi da da tale e tanta disgrazia ci riprendiamo un istante o Santa Vergine Maria Madre di Dio Madre della Chiesa Madre di tutti gli uomini ecco da da questo volo grande insomma che oggi la Divina Volontà ci ha fatto fare dentro il tuo mondo misterioso ecco poco conosciuto ecco che tutte queste cose possano essere interiorizzate adesso noi le conosciamo quindi abbiamo almeno questa questa grazia no? che non si possono ricevere questi grandi benefici se non si conoscono ecco una preghiera è che non ti diamo mai il dolore ecco di vedere che per noi tutto questo è grazia sprecata nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella Divina Volontà al nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti